La Suzuki S-Cross è una di quelle auto che potremmo definire intelligenti ha dimensioni abbastanza compatte che le permettono di essere usata tranquillamente in città ma è anche spaziosa e comoda per le esigenze di una famiglia in più non dimentichiamolo è una subettina quindi grazie alla trazione integrale e a delle modalità di guida permette di affrontare dei facili percorsi off-road chiariamoci subito, nonostante sia una Suzuki che ha una lunga tradizione nel mondo dei 4x4 la S-Cross non è una vera fuoristrada quindi non si possono fare percorsi estremi al suo volante il suo terreno d'elezione resta l'asfalto, le normali strade dove tutti noi utilizziamo le vetture la Suzuki S-Cross è un'auto che non riserva mai grosse sorprese anzi, sulla quale si viaggia in tutta tranquillità fermo! operazione di polizia, mi serve la sua macchina no, 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 è nuova! scenda! no, no, la macchina è nuova! salga di là, allora ma dove andiamo è di qua? sei sicuro di sapere la strada? sì, 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 però lo becco conosco una scorciatoia no, no, c'è un buro lì! attiro! ecco! tu sei pazzo! tu sei pazzo! tu sei pazzo! è scienza! lo prendiamo di suo uo, è quello hato! lo vuoi uo hechio, lo ho! no, no, no no, no! no, non, non, non! glossy innanzitutto Grazie a tutti. Autovottata all'asfalto? La S-Cross è praticamente inarrestabile. Non si ferma neanche di fronte all'acqua. Beh, quasi.